Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità. Sabato dalle 14.30 nell'impianto del Tre Fontane all'Eur la Roma femminile di calcio sarà impegnata con la Fiorentina. In caso di successo le giallorosse vinceranno il campionato. Attesi alcune migliaia di tifosi sotto il profilo dell'aviabilità saranno possibili rallentamenti. L'area del Tre Fontane è servita dalla Metro B con la stazione Eur Magliana e poi dalle linee di bus 31, 771, 780, 787 e 788. Dalle 18 poi sempre di sabato allo Stadio Olimpico sarà invece di scena la Roma maschile impegnata con il Milan per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Il piano mobilità e trasporto pubblico in dettaglio è su romamobilita.it